Consigliere Alessandrini, oggi a Pescara viene presentato questo progetto, ci sono delle candidature, un team di facilitatori. Qual è l'obiettivo di questo progetto e cosa dovranno fare questi facilitatori? I cosiddetti team del futuro rappresentano la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle a sostegno del capo politico e quindi delle linee politiche del Movimento. Si tratta di 12 gruppi tematici costituiti tutti da un facilitatore che quindi è un rappresentante del Movimento 5 Stelle che si propone come leader del gruppo e ciascun gruppo tematico di 12 diverse tematiche individuate dal Movimento 5 Stelle che vanno dalla sanità, alla difesa, alla cultura, agli affari esteri e tante altre che presenteremo proprio oggi durante la conferenza stampa. Bene, ognuna di queste tematiche è rappresentata da questo gruppo che prevede la presenza di tre rappresentanti politici oltre al leader e quindi un deputato, un consigliere regionale, un consigliere comunale più cinque esperti di quella specifica materia e che quindi attraverso le loro competenze si mettono a disposizione della comunità quindi per creare quella rete diciamo di passaggio di informazioni dai territori diciamo ai rappresentanti e portavoce politici e quindi stringere il legame fortissimo che c'è tra la rappresentanza politica ed i territori. Onorevole, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa? E questa è quella che mira a ricongiungere veramente il territorio con le competenze all'interno delle istituzioni, quindi con i portavoce a tutti i livelli perché inglobare in una squadra il consigliere comunale, quello regionale, il parlamentare, l'europarlamentare e unirli a un corpo di tecnici permetterà proprio questo di ristrutturare quello che è il filo rosso che conduce un po' la politica in mezzo alla gente, in mezzo alla piazza ascolta le istanze delle persone e ne prende anche le competenze per portarle appunto sui tavoli di lavoro. Possiamo dire però che questo team servirà anche per affiancare il leader nazionale Di Maio? Lo possiamo dire perché Luigi Di Maio appunto ha bisogno in questo momento di poter ristrutturare la sua squadra che lo aiuterà e lo sosterrà nel percorso di governo che è sicuramente un percorso più impegnativo rispetto a quello fatto appunto nella precedente legislatura che era un percorso di opposizione, adesso in maggioranza l'aiuto sicuramente è più necessario e deve essere più corposo. Ovviamente siamo un gruppo come dicevo prima molto numeroso ed è anche giusto che ci siano anche più visioni di percorso e più linee di pensiero, però la cosa importante è sempre riuscire a fare una sintesi ed essere vicini al capo politico che ha bisogno appunto come dicevo già prima di un sostegno della sua squadra e quindi noi lavoriamo anche per questo il team servirà anche a riportare una maggiore armonia anche all'interno del movimento, ce lo auguriamo.